Io ho seguito tanto il video, non ho altre parole da aggiungere a parte farvi i miei più sentiti complimenti e qui sono risultati, qui sono partite, praticamente non ho molte parole in più. Ci stiamo impegnando a dare tanto alla struttura, con l'assessore del sindaco che sta lavorando sulla ristrutturazione dei campi per dare anche a cui la comunità da domani impone. Io vi ringrazio per quello che avete fatto, che avete dimostrato e ancora da altri contenuti. La cosa più bella è che oltre ad aver portato per la prima volta l'Arezzo allo Scudetto, siete i primi, quindi chiunque verrà sarà dopo di voi e questo è qualcosa che rimarrà nella storia, rimarrà scritto per sempre. Questo deve essere veramente di grande orgoglio, così come già vi ho detto a Modena, noi siamo orgogliosi di voi e come ha detto anche l'assessore, la città è orgogliosa di voi. Soprattutto per quello che avete dato in campo, quello che avete dato dopo, perché mi prego a sottolineare una cosa, me l'hanno detto che ve lo dovevo dire e ve lo dico con estrema gioia. Al di là di quello che avete dato sul campo, è stato bello quello che avete dato in termini di educazione. Questa è una cosa che veramente, quando mi è stato detto mi sono venuto in brividi, mi ha detto dite ai ragazzi che sono stati tutti bravi e tutti educati. E questo faccio un applauso anche al mister che dopo ogni vittoria i ragazzi uscivano sempre dallo stadio con gli spogliatori pubblici. Grazie.